Perché abbiamo detto parola di dinosauri? Perché li consideriamo tali nel momento in cui loro non operano nell'interesse collettivo, utilizzando la vecchia politica a determinati fini. La risposta che io voglio dare all'avvocato di Dimitri Monetti, che è il vice sindaco dell'amministrazione Tancredi, è quella che noi non abbiamo criticato lui come dinosauro, però siamo convinti che lui è un drago di comodo ancora non in estinzione. La risposta che io voglio dare all'amministrazione Tancredi